Buon lavoro anche a voi. Russell Deter, Ranciopancio, Ronaldo Lepir, Trento Griff, Raba De Greppi, Runaway Griff, Rolex Regal. In terza fila Rubina Black, Ron Howard SM, Rory McBaba, Remember Mi SM. Macchina che accelera, faticano i numeri altri nuovamente dello schieramento. Emerge allo stacco Rakelans che attacca a redotta Ranna. Passa Rakelans in vantaggio. Sbaglia Rodio, ha colto una partenza volante al largo di tutti. Return to Griff che prova a puntare su Rakelans. 13,9 in lancio. Rakelans in vantaggio. Return to Griff al suo esterno che si trascina. Il numero 13 che però galoppa di Runaway Griff. Rakelans corre al comando. 29,9. I 400 iniziali. In terza posizione alla corda c'è il numero 3 di Rundinaia Lunga. Al suo esterno Rarity. Poi lungo la corda Ricco Real. 44,2. 600 iniziali. Remember SM in quarta periglia esterna. Segue le mosse di Rolex Regal. Cavalli che vanno a attaccare. Gli 800 iniziali con il leader che li passa in 59,9. Rakelans è sempre in vantaggio. Adesso si scopre in terza ruota a remember SM che tenta di risalire le posizioni. Rakelans però è ancora in vantaggio piuttosto chiaro. Return to Griff al suo esterno. Giro in 1.14.6. Con Rakelans in vantaggio. Reddott Rans è sempre nella sua schiena. Faticano a progredire dal gruppo. Attacco dei 400 finali. Tre quarti di miglio. In 1.29.3. con sempre in vantaggio Rakelans su Return to Griff. Poi il resto del gruppo con il favorito remember SM che fatica ad ingambarsi. Retta arrivo. Rakelans prova a difendersi da Return to Griff che spinge sull'acceleratore. Testa a testa fra le due. Trova un varco propizio. Rory McBaba. Ultimi metri con Return to Griff che attacca Rakelans. E proprio nei pressi del palo lo viene a battezzare. Il secondo posto per Rakelans. Poi Rory McBaba. Ancora Rubina Black. Da rivedere invece per quanto riguarda la quinta moneta. L'ultimo nome valido per l'attrice Quartè Quintè. Bella affermazione per Return to Griff. Partenza e arrivo di fuori a Rakelans. Si è andati abbastanza piano. Due minuti e quattro decimi la distanza. Uno quindici e tre la media ufficiale. È passato Rettoetto Griff negli ultimi metri su Rakelans. Al terzo posto Rory McBaba. Poi il quindici Rubina Black. Vediamo per il Quintè. Dovrebbe essere Rarity con il numero sette. L'impressione è quella. Grazie. 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 Grazie.